Rossi gol, rossi gol, rossi rossi gol Pronto? Nonna! Sì, t'ho cercato io, nonna. E ti ha squillato il salva vita. Un'altra volta. Perché? Guardavi Sassuolo Fiorentino. Il tunnel di neto? Nonna, non è che tutte le volte che guardi il tunnel di neto devi far suonare salva vita. Eh? È una replica. Capisco la prima volta, capisco. Ok, va bene, l'importante è che tu stia bene, nonna. Certo. Sì, sì, tranquilla. A gennaio. Il mercato? Come il mercato? Si piglia i bomber tedesco? Sì. Sicuro. Ora, gennaio. Sì, sì, si era preso. Quello era un trailer, diciamo, il promo. Ora arriva quello vero. Sì, 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 sì. Alla grande. Che fai l'ultimo dell'anno, nonna? Ah, sui giorni. Ma senti, c'è Max Pezzali. Sì? Eh, i gazzosa non potevano. No, erano occupati. Va bene. Mi raccomando, nonna, eh. Eh, lo sai. Bevi poco. Brinda al limite del succo di mirtilli biologico. Come dice il reverendo Vargas. Men sana e corpore sano. E a letto presto. Va bene, nonna? Nonna, auguri, eh. Auguri per un anno fantastico. Sì, buon 2004 a due, nonna. Ciao. Ciao. Grande la nonna. Auguri a tutti. Buon 2014. Buon 2014.